Io sono Giacomo Rizzolatti, sono medico e il mio campo di ricerca sono le neuroscienze, precisamente le neuroscienze cognitive. In parole povere, studio il cervello. Il cervello è l'organo più complicato, forse la struttura più complicata che c'è nell'universo. Negli ultimi vent'anni però abbiamo fatto dei grandi progressi, soprattutto grazie alla tecnologia. Abbiamo delle macchine molto costruttose, alcune sono conosciute dal pubblico come la macchina della risonanza, che possono essere usate o a scopi clinici, questo è quello che la gente conosce, o anche per conoscere come funziona il sistema nervoso. Dicevo che queste macchine sono molto costose, ma almeno nel nord, non so se anche nel sud dello stesso, ci sono delle fondazioni che ci permettono di comprare queste macchine. Il problema è che poi queste macchine bisogna usarle, bisogna avere del personale che lo sa usare, dei tecnici bravi, eccetera. E qui c'è la carenza, perché i fondi che arrivano dal ministero sono minimi e gli stipendi sono ridicoli. Le racconto che appena comprato questa risonanza abbiamo invitato un ragazzo di Oxford, appena laureato, diciamo, che era molto contento di aiutarci, aveva già esperienza. Quando ha saputo lo stipendio, si è messo a ridere, ha detto che è meno di quello che io guadagno come dottorando. Chiusa questa parentesi, dobbiamo dire però che la macchina funziona, abbiamo trovato dei tecnici, però siamo sempre su loro dell'abisso, arriveranno i fondi, non arriveranno. Accanto agli studi che facciamo sull'uomo, noi facciamo anche studi sulla scimmia. Questi studi sono essenzialmente, come viene chiamato in Europa, curiosity driven. Cioè, sono fatti originariamente per capire certe parti del cervello come funzionano. Poi queste nozioni vengono applicate all'uomo e ad esempio la chirurgia stereotassica, di cui noi siamo all'avanguardia in Italia, l'ospedale di Newark a Milano, uno dei migliori al mondo, usa queste tecnologie per localizzare ad esempio le lesioni che causano l'epilessia. Però c'è ancora qualcosa. Le scoperte di base che si fanno possono poi essere utilizzate, anche lo scopo principale non era quello. Le faccio solo un esempio. Tempo fa noi abbiamo scoperto un meccanismo che si chiama un meccanismo specchio, un meccanismo mirror, che ci dice che quando io vedo una persona fare un'azione, si attiva anche il mio sistema motorio. Se io entro nel bar e vedo uno che prende un bicchiere di birra, il programma motorio, pigliare un bicchiere di birra, si attiva nel mio cervello. Ora, già da parecchi anni, noi abbiamo cercato di usare questo trucco per la riabilitazione. Perché immagini che lei è stata ingessata per un po' di tempo. Quando camminerà, camminerà male, dovrà subire una riabilitazione abbastanza prolungata. Ma se fa vedere se stessa un avatar che cammina, la riabilitazione è molto più rapida. Questo per ora andava un po' lentamente, ma adesso c'è stato un altro progresso, quello della tridimensionalità. Noi presentiamo stimoli in tre dimensioni, realtà virtuale, eccetera, e i risultati sono molto, molto buoni. Quindi noi attualmente, non noi, ma soprattutto i cardiologi, altri medici, sono riusciti a portare la vita a 80-90 anni. Ora, quello che dobbiamo fare, ed è questo lo scopo di ciò che stiamo facendo, è di far sì che il settantenne, ottantenne non stia chiuso in casa, ma possa passeggiare sulle montagne e magari anche giocare a tennis.